In queste ore l'Italia e Roma stanno affrontando i giorni della nostra città, stiamo affrontando il coronavirus. Le nostre abitudini quindi vanno cambiate, vanno cambiate ora. Dobbiamo tentare di ostacolare la diffusione. Stiamo sicuramente attraversando un periodo molto complesso per la storia della nostra città e per il nostro paese. E per questo vi sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione io resto a casa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.